Qui siamo nel territorio del Ghiareto del fagiolo di Sorane GP famosissimo prodotto questo territorio di produzione fatto di sabbia e ghiaia povero di calcio che non ha buccia oltre un sapore particolare diciamo un leggero retrogusto di castagna che è il sapore del nostro territorio questo fagiolo era famoso anche nell'antichità infatti era conosciuto chiamato apposta fagiolo dei musicisti conosciuto da Giacomo Cuccini che qui nel territorio di pesce a Uzzano ha composto il secondo e terzo atto della bohème dopo la seconda guerra mondiale chiaramente questi campi rimasero abbandonati perché i produttori cercavano lavoro in città nelle fabbriche e quando mio marito in particolare si è appassionato della storia di questo prodotto ha detto no non può morire un prodotto così particolare e insieme agli altri produttori ha creato la nostra associazione il Ghiareto appunto Ondus e nel 2002 abbiamo avuto il marchio europeo del fagiolo di Sorane GP esistono due tipicità il piattellino bianco perché si chiama piattellino perché rispetto al cannellino è molto piccolo e schiacciato e l'antico rosso dove sono appoggiate in questo momento che ha le stesse caratteristiche del bianco non avendo buccia ma ha un sapore leggermente più forte più saporito noi manteniamo la tradizione antica vengono seminati l'ultima luna di maggio si mettono le canne o anche le reti come vedete qui per aiutarli a crescere piano piano crescono e hanno bisogno oltre che del nostro territorio del nostro microclima che la mattina ha delle dell'umidità poi viene fuori il sole che li asciuga e li secca verso i primi di settembre vengono raccolti poi asciugati con la buccia sempre spianati messi al sole ad asciugare poi vengono battuti come si faceva una volta nei sacchi di paglia poi vengono argusciati stesi su un tavolo con un panno verde o nero in modo che si possa sceglierli uno per uno perché essendo un prodotto molto prezioso e particolare nelle confezioni non ci deve essere un fagiolino macchiato mi raccomando il fagiolo di Sorana dovete acquistarlo solo e soltanto confezionato nel suo sacchettino e con il suo cartellino con il suo logo che è sul nostro disciplinario